Per un colore Per un colore Per un calore Per un'idea Va bene così Ora trasferiamo i bloccoletti Per un colore Per un coraggio Per un cos'è Si vediamo Covid, bene Che fai Cl Geraldino Di psichore Mi hamposto Per un'esincuenze E te Adamho Ora è il momento di sentire la tavola Non è il momento di sentire la tavola Non è perfetto come la matematica Non è il momento di sentire Non è il momento di sentire Non è il momento di sentire Non è il momento di sentire